Buona domenica, bentrovati, giornata molto molto importante. Oggi l'Inter può andare molto vicino al secondo posto, un traguardo da cercare di raggiungere, però come ha sottolineato Conte, un ostacolo, uno scoglio molto ostico, duro da non sottovalutare assolutamente perché vi ricorderete la partita di andata vinta solo nei minuti di recupero con un rigore realizzato da Lukaku e in rimonta. Dopo comunque una partita abbastanza difficile e complicata, nonostante un Bologna che ha poco da chiedere a questa classifica, già salvo, non compete per l'Europa, non avrebbe motivi per giocare col coltello tra i denti, però in panchina c'è quel signore lì a cui tutti si devono inchinare, Sinisa Mijailovic, anche ex nerazzurro, un esempio per tutti, una persona, un uomo prima di tutto veramente speciale e che ha già fatto capire, ho visto tutta la sua conferenza stampa di ieri, ai suoi giocatori, insomma minaccioso come pochi, che chi non rende come deve farà una brutta fine e anche è stato molto chiaro con Musa Barro, il talento che arriva dall'Atalanta, che deve seguire le sue indicazioni e che oltre all'intensità alla corsa bisogna giocare a pallone, cosa che lui sapeva fare molto bene, ve lo ricorderete, nonostante all'Inter sia arrivato alla fine della sua carriera, però ha fatto bene anche molto con la maglia nerazzurra, un Inter che deve sfruttare la sconfitta della Lazio che ha aperto, diciamo, la strada alla fuga bianconera, alla fuga di una Juventus che non ha avuto problemi praticamente nel derby di Torino non so l'allenatore Granata Longo come faccia a fare delle dichiarazioni, poi leggeremo sui giornali risultato bugiardo con il Toro che ha dominato a lunghi tratti, non meritava la sconfitta non mi pare proprio però se lui è contento di fare queste dichiarazioni ben per lui purtroppo però sembra che un campionato che sia destinato all'epilogo che tutti si aspettavano solo adesso una crisi o un'Ibra a San Siro la prossima giornata contro la Juventus se riuscisse a fermarla lui si potrebbe riaprire qualche cosa, l'Inter però non deve assolutamente sbagliare la gara di oggi e dunque maglia di Lukaku sempre appesa, maglia di Lautaro e adesso ne parliamo, mi direte anche cosa ne pensate pronte, figurina del nipotino, porta fortuna anche quella lucidata così come l'occhiale scaramantico e qui lo indossiamo dopo tanto tempo anche se siamo alla fine all'interno della nostra abitazione vi ricorderete l'anno scorso i vari video tutti all'aperto e quindi con occhiali dicevo ne serve indossarli perché non ho dei bei ricordi di Inter Bologna l'anno scorso proprio prima di andare allo stadio mi ruppi il tendine d'Achille in quella giornata che si concluse poi con la sconfitta della squadra nera azzurra a San Siro contro il Bologna di Mijajlovic e dunque brutti ricordi e bisogna esorcizzarli con una prova come quella contro il Brescia cercando di approfittare della sconfitta della Lazio e non offrendo il fianco alla rimonta di un'Atalanta che fa veramente paura e penso che chi se la troverà di fronte in Champions farà veramente molta fatica e non escludo anche che a sorpresa possa essere una delle grandi sorprese delle Final 8 della Champions League da seguire su Mediaset, Sport Mediaset, ore 13 su Italia 1 XXL, le ultime notizie poi parleremo di Alaba, di calcio mercato vi devo spiegare un po' di cose prima però facciamo un punto sulla formazione un'altra nota ancora qualcuno che mi scrive che i video sono troppo lunghi ma stoppate quando non avete più voglia di vederli fino alla fine perché dovete impedire ad altri che li vogliono lunghi che non siano così lo ripetiamo spesso, YouTube è il canale della libertà potete fare tutto quello che volete, potete vederli in due o tre volte sapete ormai com'è l'organizzazione del tempo di questi minuti dopo l'introduzione si parla della partita, di mercato e poi si leggono i giornali quindi potete dividerli in tre video da 10-11 minuti o se no vedere solo la prima parte quando si iniziano a leggere i giornali fate qualcos'altro anche se come tanti mi scrivono un servizio molto utile che lo è stato non solo durante il lockdown e in questo periodo difficile che abbiamo passato insieme e a questo proposito mi fa anche molto piacere vedere che crescano i numeri degli iscritti dopo tutto quello che abbiamo passato che però come ogni difficoltà fortifica e cementa anche il rapporto che c'è tra tutti noi cosa che mi fa molto piacere come avete visto nonostante tutto quello che è successo non siamo mancati un giorno e abbiamo continuato a registrare tutti i giorni e ringraziamo anche Mattia che ci fa le copertine dei video questo un piccolo inciso dicevamo di formazione il grosso dubbio è se far giocare ancora Lautaro con un Lukaku che rientra dopo aver riposato con il Brescia o Sanchez tanti tanti mi avete scritto meglio Sanchez però bisogna anche qui essere molto bravi lo dovrà fare Antonio Conte a non farla ripiombare in crisi Lautaro non ha segnato col Brescia però si sta muovendo meglio sta ritrovando quella verve, quella grinta che aveva a inizio stagione anche se non è ancora lui ci sta anche che dopo un periodo così lungo di inattività possa pagare dal punto di vista fisico però pian piano mi sembra di rivederlo e una panchina oggi col Bologna sarebbe, suonerebbe molto di bocciatura e non bisogna neanche rischiare bisogna trattarlo nel modo giusto e corretto che poi vada a mettersi proprio lui di traverso per andare a tutti i costi al Barcellona ultimi due giorni di clausola in Spagna continuano a dire che non fa paura il fatto che scada la clausola però non hanno capito che l'Inter non è che scaduta la clausola chiederà meno dei 111 milioni ma ne chiederà di più o dei giocatori in più come contropartite il Barcellona secondo media spagnoli starebbe provando a fare un altro mega scambio con la Juventus con Rabiot e Douglas Costa per Griezmann si è eletto sta cercando in tutti i modi di snellire la sua rosa di creare anche artefatte con gli scambi delle plus valenze per poi aggirare questo nuovo fair play finanziario vedremo quello che accadrà quindi anche se Sanchez è più in forma conta all'inizio dovrebbe tenerselo in panchina e giocare con Lukaku e Lautaro ritorna Eriksen a fare il trequartista e sarà una partita probante perché nelle ultime uscite nonostante il gol e il colpo di Tacco con il Brescia nel finale però partita già finita a Parme col Sassuolo ha deluso parecchio sicuramente questo caldo non lo avvantaggia dal punto di vista fisico un nordico come lui a centrocampo e la notizia positiva è che dovrebbe rivedersi Marcello Brozovic ne ha parlato Conte finalmente a disposizione un po' dietro di condizione però adesso può tornare a giocare e recuperare il tempo poco che ha perso fuori dalla squadra Brozovic barella con Candreva a destra perché Moses è out e dunque non c'è alternativa se non D'Ambrosio che però ultimamente sta giocando come centrale dietro Moses dovrebbe rientrare già giovedì che si giocherà contro il Verona poi il Torino due partite molto anche qui complicate che si preannunciano sulla strada Nerazzurra a sinistra dubbio Biraghi Young con l'inglese che dopo la bella bella prova contro il Brescia dovrebbe essere confermato in difesa invece il ballottaggio Godin in vantaggio leggero su D'Ambrosio per affiancare Skriniar no scusate De Vrij e Bassoni Skriniar ancora squalificato davanti a Dandanovic questa la formazione adesso parliamo prima di tutto di Lautaro abbiamo detto ultimi due giorni di clausola staremo a vedere quello che succede se si muoverà qualcosa però il Barcellona al momento non è riuscito praticamente a parte a fare lo scambio Artur Pjanic a fare nulla in uscita ancora su Gobbo tutti i vari un titito di Bo e compagnia cantante Rakitic in una crisi pesante tanto che si sono interrotti anche i discorsi di rinnovo con Messi e lì sognano in tanti un'operazione che fa gola tanti intermediari che vorrebbero far cambiare casacca a Messi anche qui tutto da vedere e verificare poi c'è Alaba ve lo spieghiamo meglio la notizia più importante l'abbiamo data ieri a Sport Mediaset Alaba è stato due volte ben due volte a Milano prima del lockdown prima quindi che si chiudesse il tutto insieme al padre che è il suo diciamo agente che cura la sua procura con la consulenza del mega procuratore internazionale Zavi c'è stato quindi questi incontri anche con la dirigenza dell'Inter pezzo pregiato del mercato dei giocatori scadenza l'anno prossimo quindi a solo un anno di scadenza si sta trattando anche con il Bayern Monaco che vorrebbe tenerlo lo stipendio è di 11 milioni lordi quindi la metà è quanto percepisce in tasca 5 milioni e mezzo che non è assolutamente una cifra che spaventa l'Inter che ne dà 5 per esempio ad Akhimi lui ne vorrebbe 15 lordi questa è la sua richiesta che ha fatto al Bayern Monaco che sarebbero 7 e mezzo netti che con il decreto però crescita all'Inter costerebbero 10 un po' come per dire costerebbe Perisic che ne guadagna 5 netti e lordi sono 10 quindi come un giocatore che senza decreto ne guadagna la metà un risparmio considerevole quindi anche l'Inter è pronta a fare un'offerta del genere chiaramente non c'è solo l'Inter ci sono Real Madrid Manchester City e United tutte interessate a questo pezzo pregiato di giocatore che andrà in scadenza che può giocare sia sulla fascia sinistra e ultimamente anche con profitto come centrale mancino dei tre dietro e con il modulo di Conte potrebbe fare entrambi questi ruoli 28 anni con una grandissima esperienza internazionale padre nigeriano madre filippina cittadinanza austriaca ed è uno dei punti di forza della nazionale più forte di quella squadra in cui gioca anche Lazzaro che rientrerà e si vedrà poi che cosa riuscirà a trovare l'Inter per il suo futuro e l'Inter c'è e aspetta intanto di vedere se il Bayern Monaco non troverà come si sembra come si intuisce un accordo per il rinnovo però abbiamo visto anche il caso di Mertens chi è in scadenza si gioca tutte le sue carte gioca su più tavoli cerca l'offerta migliore per probabilmente uno degli ultimi contratti l'ultimo contratto importante la sua carriera e poi si gioca con le offerte che arrivano e sceglie la migliore o quella che più anche gli piace come ha fatto lo stesso Mertens un Bayern Monaco che abbiamo letto le parole di Rummenigge ieri su Thiago Alcantara che non vuole rischiare che vada via a zero tra un anno stesso discorso vale anche per Alaba e dunque l'Inter potrebbe fare un grosso favore al Bayern Monaco se e qui anche un'altra condizione che dovrebbe verificarsi per quello che abbiamo definito un sogno però non impossibile se il Bayern accettasse di mettere in pista uno scambio con Perisic che i tedeschi non vogliono ancora riscattare sembrano intenzionati o a farlo a cifre irrisorie rispetto ai 20 milioni che non stabiliti se però si desse a Perisic la valutazione di una ventina di milioni dunque l'Inter che lo ha a bilancio a 6,5 farebbe una discreta plus valenza e si alleggerirebbe del suo ingaggio un Alaba che ha una valutazione di 50 però a scadenza quindi qualcosa a meno qualcosa a meno anche per il covid con una ventina di milioni 20-25 milioni e Perisic se il Bayern Monaco accettasse questa offerta l'Inter è pronta a fare questa operazione come dimostra però la notizia che abbiamo dato in anteprima in esclusiva è il fatto che Alaba sia stato ben due volte a Milano prima del lockdown e questo è un dato di fatto molto molto importante che abbiamo scoperto che vediamo così a tutti voi che ci seguite e che fa capire insomma che l'Inter è sul giocatore che come per Eriksen come per Hakimi ci sta lavorando da parecchio tempo e vuole provarci poi chiaramente le vie del calciomercato sono infinite vedremo non c'è solo l'Inter sul giocatore e soprattutto devono verificarsi una serie di incassi come vi abbiamo detto intanto che non rinnovi poi che il Bayern accetti di mettere in pista uno scambio con Perisic e poi che lui sia disponibile a firmare il contratto con l'Inter Inter che se non ci fosse una soluzione subito ci lavora anche come per Eriksen per cercare di prenderlo in scadenza o anticipare magari a gennaio quando riapriranno le liste di portarselo a casa con una cifra non corrispondente magari la metà di quello di cui stiamo parlando adesso un Eriksen che era valutato 60-70 milioni l'Inter con 6 mesi di contratto alla fine l'ha portato a casa con 20 tutte cose che possono succedere settimana decisiva dopo la partita di oggi anche poi per vedere cosa accadrà a un Brescia che sembra ormai destinato alla serie B è un Inter pronta a a inserirsi e a provare a chiudere anche l'operazione con Cellino abbiamo detto ieri ne abbiamo parlato se ci fosse veramente la possibilità di arrivare a Tiago Alcantara sarebbe qualcosa insomma che l'Inter potrebbe potrebbe provare a fare pagandolo meno di tonali non sicuramente l'ingaggio però anche qui sembra destinato verso il Liverpool ma tutto può sempre accadere e cambiare quindi state sempre sintonizzati oggi Brescia a Verona questa sera se il Brescia dovesse perdere l'Inter potrebbe poi andare con altre diciamo proposte da Cellino e invitarlo ad accettare i suoi 35 milioni più bonus con un Brescia destinato alla serie B e dunque anche Cellino che sarebbe costretto un po' a scontare quello che è il prezzo di un tonali che ormai ha già dato il suo ok ha già dato il suo sì all'Inter la Juve si è un po' defilata c'è ancora qualche inserimento estero però anche qui attendiamo prima di tutto bisogna provare a agganciare questo secondo posto andiamo su Sport Mediaset dove leggiamo appunto la notizia è il mio articolo su Alaba così ve lo spiego anche meglio adesso lo devo trovare vediamo dove è finito perché prima adesso ci sono tutte le cose su sulla partita della Juventus su Sarri sulla grande vittoria del Milan che praticamente consegna tre quarti di scudetto la Juventus ora l'Inter pensa in grande dopo Achimi è pronto il colpo Alaba per ora è un sogno ma l'Inter ci lavora da mesi perché Conte sa bene che ci vogliono giocatori come Davide Alaba per vincere come per Achimi Marotta e Ausilia hanno aperto da tempo il file sul roccioso difensore austriaco che può giocare sia terzino che mancino una difesa tre proprio come quella di Conte la novità più importante che abbiamo scoperto è che Alaba è stata a Milano ben due volte prima del lockdown dove aveva incontrato la dirigenza Nerazzurra insieme al padre che lo rappresenta con la consulenza del super procuratore Zavi Alaba ha una valutazione di 50 milioni e uno stipendio da 11 lordi ma va in scadenza tra un anno al momento non ha un accordo per il rinnovo con i tedeschi su di lui ci sono Real City e Paris Saint Germain ma l'Inter c'è e aspetta come per Ericsson e potrebbe provare ad anticipare l'operazione se il Bayern accettasse uno scambio con Perisic più robusto con Guaglio intanto in via della liberazione è passato Luis Fernando García l'agente di Emerson Palmieri che vuole tornare in Italia si profila un'altra sfida di mercato con la Juve per il terzino sinistro per cui il Chelsea chiede 30 milioni e da quello che ho sentito sembrerebbe che la Juventus sia leggermente in vantaggio nonostante appunto ci sia stato questo contatto importante tra il suo procuratore e l'Inter stiamo a vedere quello che succede andiamo adesso a leggerci i giornali naturalmente le copertine di tutti gli sportivi sono dedicate alla fuga della Juventus alla vittoria nel derby alla sconfitta della Lazio per 3-0 contro il Milan e vi fa capire insomma anche quando hai degli infortuni come ha avuto l'Inter spesso durante tutta la stagione ti vengono a mancare immobile Caicedo due giocatori nello stesso reparto come spesso è accaduto ai nerazzurri a centrocampo adesso ancora Sensi il Vessino sono out era fuori anche Brozovic ora pure Moses quando ti vengono a mancare i giocatori importanti paghi Dazio e lo dimostra la sconfitta della Lazio contro il Milan in casa il Milan scatta Lazio schiantata Ibera trascinatore martedì sfida Sarri la Juve scappa fuga da Scudetto con Di Bala CR7 il Toro si arrende poi l'Inter cerca Eriksen nel secondo posto Conte chiede continuità il danese oggi può andare a meno uno da Inzaghi un poker al Torino un grazie al Milan Sarri fuga decisiva derby dominato col solito Di Baldo quadrado l'autogol di Gigi Belotti ancora segno su rigore non basta e Granata il capo della Lazio spinge i bianconeri che non avranno De Ligt e Di Bala a San Siro Ronaldo alla fine riesce a segnare su punizione poi il record di Buffon la sconfitta amara del Toro risultato severo sconfitta amara ma si consola con Verdi puniti da leggerezze noi con personalità il diavolo è Ibra a Zlatan bastano 45 minuti per lanciare il Milan la Lazio affonde va a meno 7 dalla Juve Rossoneri da padroni all'Olimpico e passo importante per l'Europa Liga apre Cialanoglu poi lo svedese su rigore Erebic la squadra di Inzaghi stanca e senza idee Pioli pensa già ai bianconeri dobbiamo insistere così la delusione di Inzaghi scudetto più lontano sconfitta pesante ma non molleremo il tecnico assenza in attacco decisiva e sfortuna negli episodi chiave ora testa la gara di Lecce e andiamo all'interno delle pagine dedicate all'Inter Ericsson tocca a te l'Inter lo pretende più trascinatore più continuo il danese titolare col Bologna guida l'assalto a secondo posto da lui si vuole qualità cattiveria dialogo in attacco per andare a meno uno dalla Lazio rispetto e complimenti motivazioni simili Conte Mialovic due duri in panchina gli allenatori pronti ad affrontarsi e poi Lukaku torna al centro parte la caccia al record dopo il riposo con il Brescia Romelu guiderà l'attacco con due reti e guaglierebbe la sua stagione migliore con l'Everton 26 gol ma la migliore di 27 2017-2018 con il Manchester United di nuovo al centro di tutto perché in fondo intorno a lui che ruota il mondo Inter quest'anno Romelu Lukaku si riprende il suo posto nel cuore dell'attacco nero-azzurro per portare avanti la sua doppia missione c'è un obiettivo di squadra da continuare a inseguire tutti insieme mostrando la voglia di non mollare neanche di un centimetro come chiede Antonio Conte perché la sua Inter vuole e deve sentirsi in corsa fino alla fine poi c'è un traguardo personale da provare quantomeno ad avvicinare col record di gol in una stagione distante appena due lunghezze Romelu mancano due reti per eguagliare le 27 realizzate due anni fa la prima esperienza con il Manchester United due come palloni mandati alle spalle di Scorrupsi nel match di andata al Dallare insomma c'è un numero che si aggira come un fantasma in questa calda domenica di luglio l'Inter scenderà in campo alle 17.15 più di 30 gradi previsti a San Siro orario inedito per la squadra di Antonio Conte post lockdown e la temperatura sarà un nemico in più nell'assalto al Bologna Lukaku arriva alla sfida più fresco degli altri contro il Bologna anche lui è finito nel calderone delle rotazioni imposte dai tanti impegni ravvicinati per la prima volta ha tirato il fiato per la seconda in campionato Conte ha deciso di rinunciare al suo leader offensivo affinandosi alla coppia Lautaro Sanchez e oggi il ballottaggio proprio tra i due sudamericani e quotazione Nino Maraviglia sono in netto rialzo però dovrebbe toccare ancora a Lautaro rimasto a secco nella goleada dello scorso mercoledì l'argentino ha bisogno di giocare e di ritrovarsi di sbloccarsi ritrovare la serenità dopo le tante voci di mercato che lo hanno accompagnato durante il lockdown e che ancora oggi sembrano condizionarlo la Lula stasera vuole tornare a splendere dopo essere rimasta completamente fuori dal tabellino dei marcatori nella goleada contro il Brescia pensate ben 17 sono i giocatori dell'Inter andati in gol in campionato un record assoluto nessuno ha fatto dei numeri del genere e che dimostrano comunque anche il miglioramento ulteriore che c'è rispetto alle passate stagioni emotivamente non c'è dubbio che Lukaku sia l'attaccante più sereno la scorsa estate ha scelto l'Inter per tornare a sentirsi indispensabile al centro del progetto dopo gli ultimi sei mesi a Manchester da attaccante di scorta Romelu ha bisogno di avvertire la fiducia dell'ambiente per dare il meglio di sé e la storia della sua carriera a confermarlo e qui si fa paragone con tutto quello che è successo nelle sue ultime stagioni ma andiamo a leggere invece su Eriksen l'articolo sul danese la sua avventura italiana finora è stata come un giro continuo sulle montagne russe prima su poi giù poi di nuovo su poi chiami poi di nuovo giù d'altronde se ti chiami Eriksen se mezza Europa che conta era sulle sue tracce se l'Inter ti ha inseguito e comprato per rivaleggiare con CR7 non può essere altrimenti ecco perché il centrocampista danese non smette di far parlare di sé ha sempre i fari puntati addosso prima per le difficoltà a entrare nella macchina del meccanismo di Conte poi per aver fatto cambiare idea ad Antonio che per lui ha rimodellato la squadra quel 3-4-1-2 infine per aver steccato due partite facendo temere un ritorno nell'anonimato dopo alcuni lampi da super giocatore Cristian è così è sempre stato così prendero e lasciare l'Inter l'ha preso e dopo le settimane di conoscenza reciproca più i mesi di distanziamento forzato durante il lockdown la ripresa da piano l'ha messa al centro della squadra e oggi deve essere lui a guidare la rincorsa alla Lazio numeri in crescita come dimostrano il primo gol in campionato col Bologna con un assist di tacco per Candreva col Bologna Cristi tornerà al suo posto dove può fare tantissimo il capo della Lazio riapre i giochi per il secondo posto lui stavolta dovrà prendersi più responsabilità essere più centrale nel gioco rispetto alle ultime due uscite e poi dialogare di più con la coppia d'attacco che sia Lula ma anche con Sanchez tirare fuori quei colpi da biliardo che danno all'Inter più soluzioni e la rendono imprevedibile tocca a Cristian adesso alzare la famosa asticella questo dunque per quanto riguarda la Gazzetta che poi intervista Palacio Bologna vale più della Champions Inter attenta vogliamo il bis l'ex nerazzurro che onore la richiesta di Gasperini di raggiungere l'Atalanta ma qui ho già tutto mi ha ilaglio che c'è un esempio la treccia finché gioco resta queste le parole del grande Trenza sfortunato essere arrivato forse nel periodo peggiore avrebbe meritato di vincere qualcosa con la maglia dell'Inter per la mia convinzione probabile della Gazzetta con Andanovic Godin De Vrij Bastoni Candreva Varela Brozovic Young Eriks Lukaku Lautaro quella che abbiamo detto noi e poi Scorupsi 4-3-3 del Bologna con Dykes Bani Danilo Tomiasu in difesa Asciute Medele Soriano a centrocampo Barro Palacio e Orsolini un tridente molto veloce da fare molta attenzione maneggiare con cura Corriere dello Sport prima pagina la fuga della Juventus in copertina e poi la sfida tra Napoli e Roma con Rino che tenta l'aggancio conta l'esame mia e lo dice uno scoglio duro la grande foto di Ronaldo che esulta finalmente a segno di punizione è fuga derby alla Juve crolla la Lazio Sarri vola a più 7 la Lazio senza armi e il Milan fa il colpo Ibra impone la legge del più forte a Marinzaghi ma la Lazio non molla con Pioli che ora pensa di fermare anche la Juventus il derby invece di Torino va alla Juve Sarri vola a più 7 finalmente ce l'ho fatta confessa Cristiano Ronaldo per questa sua punizione messa a segno Conte avverte alta intensità contro Sinisa l'Andata all'Inter vinse la fatica sul Bologna andando sotto prima volta alle 17 e 15 farà caldo davanti alla Juve sa solo vincere continuano a credere allo scudetto per l'Inter non è facile ma Conte non vuole che la sua squadra si fermi ci sono traguardi alternative al tricolore da tagliare obiettivi che comunque potrebbero permetterebbero ragnarazzurri considerare la stagione positiva prima su tutti una qualificazione alla Champions più tranquilla rispetto a quella che nelle ultime due stagioni è arrivata all'ultima giornata adesso per essere certi di finire tra le prime quattro ad Andanovic e compagni servono 12 punti ovvero 4 successi da conquistare in 9 incontri iniziare da quello di oggi contro il Bologna chiudere al terzo magari al secondo posto sarebbe senza dubbio un passo in avanti poi c'è quota 80 punti un Everest che l'Inter non è più riuscito a scalare dal 2009 e 2010 la stagione del triplete il caldo Conte non si fida le sue parole sul Bologna una squadra che sta bene fisicamente che ha ottimi valori ha allenata bene il rosso blu prediligono giocare ad alta intensità l'andata ricordo che abbiamo vinto con fatica dopo essere andati sotto nel punteggio i ragazzi sono preparati per questo scoglio che sarà molto duro Conte non si fidano gli interessa che nelle sette partite da allenatore contro il Bologna sia ancora imbattuto 5 successi e 2 pareggi siamo reduci da una sfida interpretata nel modo giusto e abbiamo voglia di fare i ragazzi stanno bene ma adesso devono confermarlo le sue panchine le sue parole Lautaro si Sanchez panca Barella non è al top ma può farcela per il core sport Bastoni De Braia ed Ambrosio e Nungodini in difesa Young Candreva esterni non c'è Brozovic ma Gagliardini con Barella e poi Ericsson alle spalle di Martinez e Lukaku con Sanchez in panca confermato anche qui Mijajlovic la forma conta ma pure la palla fisicamente il Bologna c'è ma poi bisogna giocare al calcio niente figuracce le sue parole molto chiare alla squadra concludiamo la nostra lettura dei giornali con tutto sport naturalmente che apre parlando di una Juve senza pietà 4-1 il derby di Torino poi Milan la grande bellezza Inter la farre Emerson riavvicina Lautaro troppa Juve per questo Toro Toro di personalità avanti con fiducia Longo dice che secondo lui ha messo in difficoltà la Juve e poi andiamo all'interno dopo l'impresa del Milan lo scudetto di Lukaku il titolo Big Rom col Bologna insegue il record di goal in carriera il Belga torna titolare nella prima stagione italiana ha segnato 25 gol due in meno rispetto ai 27 col Manchester di due anni fa Eriksen riprende il suo posto a centrocampo può tornare Brozovic un match a forte intensità le parole di Conte che avverte la squadra non parlatemi del caldo ci sarà per tutti e poi è giusto usare in queste situazioni turnover Mijajdovic Stuzzica Barrow ti ho spiegato tanto e poi mossa dell'Inter Emerson allontana Lautaro dal Barça martedì scala del termine la clausola recessore all'Inter non può non servire più Firpo e quindi ancora più difficile per il Barcellona arrivare a Lautaro Martinez formazione probabile di tutto sport ci sono delle variazioni c'è Biraghi a sinistra e non Young e poi Brozovic con Barella e Candreva a completare il centrocampo Ericsson Martinez e Lukaku questo quanto partita da non sbagliare e cercare di lanciare questa corsa al secondo posto con la speranza che qualcuno là davanti poi si trovi a perdere tanti punti per strada però fa un po' ancora rammarico averne lasciati il centrocampo